La richiesta sanità e politica tutte insieme in un collaudato sistema di corruttela che ha consentito alle imprese legate ai clan di vincere gli appalti dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio per la pulizia degli ospedali. E' quanto emerso nell'inchiesta della DDA di Reggio Calabria che ha delegato le indagini alla Guardia di Finanza. Complessivamente sono 17, come abbiamo visto, le misure cautelare messe dal GIP Karen Catalano su richiesta del procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri e dell'aggiunto Gerardo Menianni e dei PM Valtre Ignazitto, Giulia Scavello e Mari Camastra Pasqua. Il procuratore Bombardieri definisce uno spaccato desolante quello che è emerso dalle pieghe dell'indagine InterNOS che ha portato all'arresto per corruzione del consigliere regionale Nicola Paris eletto nell'Udc e poi passato al gruppo misto. In carcere, assieme ad altri otto indagati, è finito anche il direttore del settore della struttura complessa della gestione delle risorse economico-finanziarie dell'ASP Giuseppe Corea. Era lui, secondo gli inquirenti, il soggetto grazie al quale le imprese vicine al clan Sarraino e Diamonte e da quelli della Locride si accaparravano gli appalti. Il consigliere regionale per il quale la DDA aveva chiesto il carcere ed è finito gli arresti domiciliari è accusato di aver tentato di intervenire, è detto nell'ordinanza di custodia cautelare presso il governatore facente funzioni della regione Calabria Antonino Spirlì al fine di sollecitare il rinnovo contrattuale di Giuseppe Corea. Il dirigente, ritenuto colluso dalla procura, è stato confermato lo stesso lo scorso maggio. «Firma tutto Corea, firma tutto» e «futtitindi» sono le frasi intercettate dalla Guardia di Finanza durante il pranzo al quale ha partecipato anche Paris. «Viva Corea per noi». Il brindisi del consigliere regionale, secondo gli inquirenti, dimostra senza ombra di dubbio la consapevolezza dell'indagato. In ordine alla sussistenza del rapporto corruttivo in essere con Helios, l'associazione temporanea di impresa che è riuscita per anni ad avere rapporti con l'ASP in assenza di qualsiasi procedura di evidenza pubblica. Per il GIP, cari in catalano, si è trattato di uno strutturato e consolidato mercanteggiamento dei pubblici poteri. Gli indagati sono in tutto 24, tra questi in stato di libertà con l'accuso di turbativa d'asta ci sono anche l'ex direttore dell'ASP, Rosanna Squillaciotti, e l'ex commissario Francesco Sarica. L'indagine, condotta dallo SCICO e dal GICO della Guardia di Finanza, ha riguardato pure i servizi di sanificazione e disinfestazione delle strutture ospedaliere che sarebbero avvenuti in maniera irregolare. In piena pandemia, inoltre, gli arrestati sarebbero appropriati indebitamente dei dispositivi di protezione individuale anti-covid, sottraendole fin anche al personale sanitario impiegato in prima linea all'emergenza. Siamo intervenuti, ha detto il procuratore Bombardieri, per far capire che lo Stato e le istituzioni ci sono. Il commissariamento dell'ASP è stato il commento del procuratore aggiunto domenianni, non serve a nulla, è inutile commissariare se poi rimangono gli stessi soggetti a gestire le gare.